Ciao a tutti, buona domenica! Alfred, saluta gli zii! Sono molto seccino! Sì, è accarezzato dallo zio Igor e quindi è in brodo di giugiole! Eli! Ciao! Guardate un po' la Lulu che gioca con questa simil tendina, questo tappetino interattivo che piacerebbe anche ad Amedeo e invece per i minini. Guardate Lulu! Lei sì che ci dà soddisfazione! Sì, è vero! Luli! Dice Ecate che si pulisce perché ha fatto abbondante colazione brutto! Stiamo aspettando Jody! Sono in autostrada, le ragazze che ce la portano, lei è alquanto stressata giustamente per il viaggio e per il caldo, ma... Ora andiamo un attimo... Ciao Noel! Andiamo un attimo a vedere qui, la pietra? Non esiste più la pietra! Eh, così lo fanno tutti! Andiamo a vedere... Andiamo a vedere i gattini! Sono stati bravissimi stanotte! Non hanno assolutamente distrutto il gabbione! Sono qui! Qui dietro! Ciao Tuffini! Hanno fatto tutte le pappe che abbiamo messo ieri sera! Titi! Ciao! Adesso ne abbiamo aggiunte altre! E poi cambiamo i gabbioni! Ok? Adesso arriva una bimba! La mettiamo nel gabbione sopra! Va bene ragazzi, buona domenica! Ci riaggiorniamo più tardi! Ciao ciao! Ciao!